Una ragazza con sorriso stupendo, con una gioia di vivere, direi contagiosa, vederla diventare donna e oggi sapere che non c'è più è molto doloroso. Lenti scure per nascondere occhi gonfi di pianto, Sandra Truccolo era quasi una seconda mamma per Silvia Memo. La campionessa paralimpica di tiro con l'arco e il marito, l'olimpionico di Canoa, Daniele e Scarpa, hanno accompagnato per anni la diciottene e la sua passione per l'acqua. Silvia si allenava qui alla darsena marina di Cavallino con il club Canoa Republic. Qui era nato il talento che l'aveva portata al mondiale under 16 della specialità nel 2008. Il dolore a Cavallino tra i porti è fortissimo ed ha anche la voglia di dedicarle una manifestazione. Noi adesso penseremo a qualcosa per ricordare Silvia, per ricordarla ogni anno, ogni momento, ogni istante. Decideremo assieme a tutti quanti cosa sarà la cosa migliore da fare, assieme alla famiglia. Le condizioni di Davide, il 19enne fidanzato di Silvia, alla guida dell'auto finita contro il palo, sono gravi ma stazionari all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Il ragazzo rimane in coma farmacologico e non sa che la sua Silvia non c'è più. Nel frattempo i suoi amici e compagni del liceo classico Giovanni Paolo I di Venezia l'hanno ricordata ieri con una veglia nella cappella della scuola e stamane con una messa alla Basilica della Salute. Silvia ci ha regalato tanti momenti gioiosi assieme agli altri ragazzi che hanno frequentato e frequentano il nostro club. Però non era solo una ragazza bella e sorridente, era una ragazza altruista, una ragazza generosa. Quella della scuola di Canoa Cavallino è una grande famiglia, anche la mamma di Silvia ne ha fatto parte per anni, trasmettendo la sua passione alla figlia. Il maestro Daniele Scarpa è arrivato nel pomeriggio da Roma, dove era impegnato in alcune gare. Anche per lui un dolore insostenibile e la voglia di ricordare la loro insostituibile campionessa. Io spero che Silvia dalla sua possa guidare e accompagnare la sua mamma, è un percorso che sarà molto difficile.